Ciao, siamo Mirko Estefi di apdscalzi.it. Noi abitiamo a West End e può capitare che dobbiamo raggiungere West Bay. West End e West Bay si affacciano entrambe sul mare. Il modo più pratico, veloce e anche più piacevole per raggiungere questi due luoghi è sicuramente il water taxi. Ciao Capitano Juan. Ciao, ciao. Puoi portarci a West Bay? Sì, certo, possiamo andare a la playa West Bay, sono le migliori che abbiamo in Roatà. Molto bene, vamos. Sprezzo. 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 Il prezzo per una corsa in water taxi è solitamente di 60 le birra, circa 2,30€ però il water taxi è un mezzo collettivo quindi se si viaggia con altre persone si potrebbe anche pagare un pochino meno. Sì insomma il water taxi è un'ottima occasione per fare un giretto in barca, per vedere Roatà da un'altra prospettiva e perché no, per abbronzarsi un po'. Ricordatevi di mettere il mi piace alla pagina Facebook, di iscrivervi al canale YouTube e di tenere sempre d'occhio il nostro sito www.piediscalzi.it Ciao!